Il 24 luglio 2010, nello scoglio dell'isola di San Fantino, sarà incoronata la Madonna dall'Alto Mare. Nei giorni in cui proprio ricordiamo la sua apparizione nello scoglio, nel 650 d.C., insieme a San Fantino, in questo miracolo la Madonna liberò il nostro territorio dall'invasione dei Saraceni. È stato realizzato un diadema tutto in oro con l'oro votivo che i fedeli hanno donato per la Madonna dell'Alto Mare. Ci sono diversi simboli nel diadema. Cosa rappresentano? I simboli nel diadema rappresentano la storia del territorio completamente unita alla storia della Chiesa. La parte centrale che ha una forma simmetrica che localmente mira a rappresentare lo scoglio dell'isola, lo scoglio dell'apparizione, ma ecco la roccia che è Cristo, Cristo Gesù. È la roccia, la pietra angolare su cui si fonda la Chiesa. Poi troviamo anche la stella che da sempre la Chiesa ha inviocato Maria come la stella Mares, ecco la stella del mare. La barca, segno dei pescatori, della Chiesa, ma anche dell'invasione dei Saraceni. Poi quattro medaglioni presenti, uno che rappresenta proprio il miracolo che consiste proprio in questa apparizione della Madonna che insieme a San Fantino con in mano un tizione fumigante che a un cenno della donna lancia questo tizione a mare che era in cui c'erano presenti queste barche dei Saraceni, queste navi, queste navi in Afragano e la nostra terra sfugge da questo attacco saraceno. Ecco per questo proprio il 24 luglio il perché dell'incoronazione, perché mentre la gente festeggiava San Fantino dove vede arrivare queste navi, pregò il santo e avvenne questo miracolo. Poi c'è il medaglione che rappresenta la torre dei Saraceni, ma la torre è anche segno di Cristo, Cristo che è la fortezza. Poi un terzo medaglione, quello molto bello dal punto di vista affettivo perché rappresenta lo stemma di sua santità Benedetto XVI che il 26 maggio ha benedetto il diadema della Madonna presentato da me in Piazza San Pietro con la presenza di un gruppo di parrocchiani e quando gli ho donato il libro della storia di San Fantino ecco lui ha apprezzato e ringraziato proprio di questo, ha conosciuto possiamo dire ufficialmente che in Calabria c'è questo grande santo che noi veneriamo e poi il quarto medaglione con la palma simbolo di palma perché ecco Tauriana, Pietrenetto e Nara sono parte integrante della storia palmese. Chi incoronerà la Madonna il 24 luglio? Allora il 24 luglio la Madonna sarà incornata da Monsignor Vincenzo Rimedio Vescovo Emerito di La Mezzia Terme perché abbiamo scelto lui? Abbiamo scelto lui perché era molto amico di Don Salvatore d'Agostino che è stato il secondo parroco della parrocchia di San Fantino per ben 43 anni è stato anche viceparroco di Don Monsignor Vincenzo Rimedio di Palmi negli anni passati e chi meglio di lui conosce il nostro territorio, la nostra storia. Per ricordare Don Salvatore è stato istituito anche un premio? Sì, è stato istituito un premio alla sua memoria, alla memoria anche di Nino Punturiero che è stato presidente del comitato festeggiamenti maresantissima dall'Alto Mare per diversi anni che è venuto a mancare due anni fa mentre Don Salvatore è morto dieci anni fa e sarà consegnato a un altro membro anziano della comunità che si è consumato realmente negli anni proprio per il bene di questa terra. Un avvenimento del genere ha sicuramente bisogno di molto aiuto come hanno risposto i fedeli e anche chi si è trovato vicino in questo periodo? Allora bisogna dire che tutta la comunità ha risposto in maniera incisiva persone hanno donato cose a cui ci tenevano molto collane che erano state regalate dai propri figli una mamma mi ha portato la collana che il figlio oggi defunto gli ha donato una bellissima collana molta gente ha detto si è privata di una cosa a cui ci teneva affinché fosse presente nel diadema della Madonna non era possibile tutto questo che stiamo preparando che ha come fine soltanto la gloria di Dio e il bene della nostra terra non era possibile se non c'era l'intervento costante del comitato festeggiamenti maresantissima dall'Alto Mare oggi guidato dal presidente Rosario Gentile a cui a lui e a tutti i membri vale il mio grazie ma tutti i membri della parrocchia, le catechiste, i membri del coro San Fantino sono in dovere di ringraziare tutti anche l'amministrazione comunale il sindaco che ha voluto essere con noi in piazza San Pietro il 26 maggio domenico Naccare che è consigliere del comune di Roma è delegato per i calabresi che è stato con noi in piazza un grazie va anche alla famiglia Mattiani nella persona di Pasquale e della sua famiglia ma di tutti i membri che a Roma grazie al fatto che hanno un albergo ci hanno accolto, ospitato, aiutato proprio per passare due giorni indimenticabile grazie a tutti